Musica Tutto pronto per la seconda edizione del Festival Città Noir, premio Jean-Claude Itzou, patrocinato dalla Regione Campania e organizzato dal Comune di Cassel San Giorgio. Il format dedicato al Noir quest'anno intende ampliare il suo raggio d'azione, difatti il ricco programma della Due Giorni di Festival, che si terrà sabato 28 e domenica 29 settembre, negli splendidi scenari di Villa Calvanese, promette di soddisfare le esigenze di grandi e piccini attraverso un unico grande evento, incentrato sulla cultura, ma che tocca anche le corde dell'arte, della musica e della gastronomia. Svelati ieri mattina presso l'Aula Consigliare del Comune, durante la conferenza stampa, moderata dal giornalista RAI Giuseppe De Caro, tutti gli ospiti ed i momenti che daranno vita all'edizione 2019. Tra i nomi d'eccezione spiccano Giancarlo De Cataldo e Piera Carlo Magno per la prima giornata, ma anche Gaetano Di Vaio e Nicola Oddati, che con Marcello Ravveduto e Giorgio Mottola discuteranno del Noir metropolitano. A concludere la rassegna, musica dal vivo e degustazione a tema. L'amministrazione di Castel San Giorgio è l'organizzatrice del Festival del Noir, perché è giusto celebrare i nostri figli, i figli di questa terra, e già Claudizzo ha avuto origini san giorgisi, quindi è bene ricordarlo con un genere letterario, che peraltro piace a molti, io sono tra le stimatrici di questo genere letterario e farlo nella cornice di Villa Calvanese, che è il nostro gioiello, è una cosa bella e piacevole ed è un input, augurandoci che questo festival diventi sempre più importante, sempre più esteso a livello territoriale, quindi toccando non soltanto la provincia e la regione, ma addirittura noi ci auguriamo che diventi di risonanza nazionale. Abbiamo pensato ad un format originale, un filone letterario che ormai sta avendo tanto successo, però noi abbiamo pensato di presentarlo in maniera particolare, declinandolo in tutte le sue sfaccettature, dalla letteratura alla fumettistica alla fotografia, il teatro, la musica. È un festival per tutte le generazioni, ci sono appuntamenti per tutti, dai più piccoli con un'animazione che avremo la domenica mattina del 29, alla gastronomia e poi ovviamente i tavoli letterari. Quest'anno vogliamo riflettere sul rapporto che c'è tra la parola scritta, perché il cuore del festival, il cuore di questa rassegna restano i romanzi, resta la letteratura, tra la parola scritta e gli immaginari cinematografici. Per questa ragione abbiamo deciso di, dovendo scegliere un testimonial di questo tema, abbiamo deciso di puntare su Giancarlo De Catà. Abbiamo chiesto a Gaetano Di Vaio, che fa parte del mondo Gomorra, voglio dire, un autore, sceneggiatore, attore, e a Giorgio Mottola, che è un collega di Report, e insieme a Nicola Oddati, che è uno scrittore che al di là del fatto che, al di là delle sue cariche, degli incarichi politici, è anche un bravo scrittore di romanzi gialli, abbiamo chiesto a questi protagonisti di discutere di noir metropolitano.